ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato allo zodiac skin diver ho omesso la denominazione super sea wolf perché mi pare di capire che tutti gli orologi che sono a catalogo di zodiac portano questa denominazione prima poi di un altro nomignolo ad identificare il modello e quindi perlomeno i diver tutti i diver diciamo così è la prima volta che porto uno zodiac sul canale e devo dire di essere abbastanza contento perché si tratta di un marchio storico e tra l'altro questo modello rientra pieno nei miei gusti mi è stato messo a disposizione dalla gioielleria pasquali domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale e nuovo concessionario del marchio e offre anche un trattamento di favore voi che state guardando quindi contattatevi se avete bisogno di uno zodiac o anche di uno degli altri marchi che hanno ma torniamo a zodiac è un marchio che nasce nel 1882 in svizzera all'elok e attraversa tutte le fasi della storia dell'orologeria ricordiamo il primo diver il sea wolf messo sul mercato nel 1953 e il super sea wolf degli anni 70 ma anche l'olimpos del 1961 molto particolare per le sue forme avveniristiche curiosamente la crisi non avviene durante l'epoca degli orologi al quarzo ma a fine anni 90 e nel 2001 entra sotto l'ala protettrice dell'americana fossil group collocazione che anche oggi mantiene gli stabilimenti produttivi rimangono comunque a bien in svizzera attualmente sono lì dove producono gli orologi c'è poi anche un episodio curioso di cronaca nera laddove negli anni 60 alla fine degli anni 60 inizio anni 70 ci fu un serial killer americano che si firmava zodiac ed utilizzava il logo della casa come firma hanno poi fatto anche un film nel quale il protagonista indossa uno zodiac ora non ci è dato sapere quanto fosse l'ispirazione vera leggenda insomma però c'è questa piccola storia da raccontare da non confondere il fatto che non è che gli orologi prendono il nome è dal serial killer perché gli orologi zodiac sono dal 1882 il logo è quello dal 1882 ma è il serial killer casomai che prende spunto da questi da questo logo dal nome e si fece chiamare così l'orologio che ho portato sul canale è quello che secondo me è più rappresentativo della casa anche se ci sono altri modelli di questo skin diver qua con con ghiera differente con un colore di quadrante differente che sono anche un pochino più moderne è questo qua tutto acciaio secondo me anche quello di più di maggior successo tra l'altro mi piace mi piace come come stile come come forma come compattezza e quindi ho deciso di portarlo sul canale gli altri modelli poi vi lascio il piacere di andarli a spulciare sul loro sito web ora prima di guardarlo però vi voglio mostrare l'orologio del giorno che oggi è questo stupendo brightening cronomat gmt 40 mm di diametro cassa quadrante blu soleil calibro eta 28 93 certificato kosk e il suo bracciale a cartucera detto che insomma è iconico no è iconico ci piace questo l'orologio qua è bello è bello l'orologio sono contento di questo acquisto adesso giriamo la camera guardiamo lo zodiac skin diver e poi io vi aspetto qua come al solito per le conclusioni finali snoccioliamo un po di numeri giusto per comprendere a cosa andiamo incontro diametro cassa 39 mm spessore 12.6 ingombro trasversale al polso 46.4 mm e interasse ansa da 20 mm misure sulle quali nessuno può avanzare la mentele si tratta di proporzioni adatte ad ogni circonferenza di polso sulle quali occorre fare una considerazione aggiuntiva i 39 mm sono stati misurati alla ghiera che è leggermente sporgente se si esegue la misurazione sulla cassa vera e propria si riscontrano 38 mm rientra quindi nella categoria di quei divers che mettono in mostra una ghiera più larga della cassa mi viene in mente rado captain cook ad esempio oppure lo squale heritage 59 una particolarità stilistica che potrebbe anche non piacere a qualcuno per me non fa alcuna differenza riesco ad apprezzare entrambe le filosofie c'è di sicuro che un design del genere tende a nascondere gran parte della cassa e di conseguenza sono solamente le ansie a fuoriuscire dalla sua proiezione verticale in questo caso le vediamo strette e con poca incidenza laterale in pratica osservando dall'alto si ha l'impressione di un semplice cerchio con quattro protuberanze un design generale che non risulta quindi particolarmente affusolato come potrebbe essere una cassa oyster per intenderci io lo definirei ghiera centrico osservandolo di lato possiamo notare come lo spessore risulti ridotto uno di quei casi nei quali sia la resa visiva che i numeri volgono verso la stessa medesima conclusione i 12.7 mm sono veramente pochi per un orologio subacchio 200 metri e in questo caso gli conferiscono un profilo veramente filante profilo che si completa nel momento in cui le ansie si vanno ad inclinare verso il basso di circa 30 gradi una curvatura che mira a fasciare il polso e che grazie al lug to lug contenuto ci riesce benissimo piacevole poi tutta la satinatura verticale della fiancata ma è proprio tutta la cassa ansie comprese ad essere opaca e spazzolata un gusto di acciaio professionale che tanto amiamo noi appassionati stessa finitura opaca che poi presente sulla ghiera come detto ci sono varie versioni con inserti ghiera diversamente pigmentati ma in questo caso il tutto acciaio rappresenta qualcosa di particolare che sposa la perfezione con il resto dell'orologio e ci restituisce l'idea di un orologio robusto e realizzato per essere utilizzato senza pensieri un piccolo dettaglio stilistico da sottolineare i riferimenti temporali sulla ghiera sono incisi e riempiti di nero lucido bel tocco a completare il design globale c'è poi la corona di carica o per meglio dire l'assenza delle spallette di protezione che lo identifica come skin diver da altri tempi molto ergonomica e funzionale si manovra bene ed ha un ottimo grip ruotando l'orologio ci troviamo poi di fronte al fondello solido in acciaio pieno e con la semplice scritta in corsivo super sea wolf è piuttosto a filo con la cassa e contribuisce a mantenere lo spessore ridotto dell'intero orologio spessore che non si può certo attribuire alla scelta del calibro visto che si tratta di un movimento che di per sé non è tra i più sottili in quanto ha le stesse dimensioni esterne di un eta 28 24 e suoi simili si tratta dell's tp 11 calibro base della casa swiss technology production per inciso sia zodiac che stp fanno parte del gruppo fossi si tratta di un movimento che riprende l'architettura del 28 24 e va quindi annoverato tra i sosia di quel meccanismo avendo però 26 rubini direi che riprende maggiormente le caratteristiche del selite sv200 laddove entrambi presentano un rubino sul bariletto mentre il 28 24 no quando si parla di calibri sosia si intende che sono identici per architettura e per dimensioni esterne mentre le singole parti non sono intercambiabili tra loro per lo meno la maggior parte resta comunque il fatto che si tratta di un buon calibro di terze parti che può essere considerato al pari degli altri movimenti di fornitura quali soprod sellita e landeron ma torniamo al volto dell'orologio e diamo uno sguardo al quadrante chiaramente la prima cosa che salta all'occhio è la simmetria e qui non è di certo una forzatura ma una naturale conseguenza del design i quattro triangoli e quarti non rappresentano sicuramente una esclusiva zodiac le abbiamo visti sia sugli eterna che sugli eberhardt e su molti altri orologi degli anni 60 ma è anche vero che in un modo o nell'altro ha reso noti questi modelli piuttosto riconoscibili non si scappa proprio da questa particolarità nasce la conseguente eccellente facilità di lettura ogni accento deputato a segnare l'orario appare bianco su fondo nero l'unico elemento che si mimetizza è lo stello della sfera secondi e secondo me è una scelta appropriata in quanto non tende a confondersi con le altre vediamo solamente l'estremità triangolare che ruota e ci conferma che l'orologio sta correttamente funzionando ci sono poi dei dettagli che vi piace mettere in evidenza quali il fatto che i numeri arabi dei quarti sono ricavati in negativo rispetto al superluminova una piacevole finezza di stile oppure gli indici dei minuti che sono dei piccoli triangoli stampati per favorire la leggibilità ma che si vedono poi doppiati da un altro indice metallico e quadrato questa volta applicato ed in rilievo come dire ti diamo la leggibilità senza rinunciare al gusto frivolo della tridimensionalità fine al piacere visivo in ultima analisi vorrei fare una considerazione sulle sfere sul coraggio di utilizzare lancette in stile d'offenso di un diver da sempre queste sono sinonimo di eleganza e vengono utilizzate a finitura metallica lucida sul segnatempo in stile classico qui si è optato per un restyling sportivo e devo dire che il risultato è buono perlomeno poco visto immaginiamoci se avessero utilizzato ad esempio le sfere bercedes metà della pid dell'orologio sarebbe scomparso almeno ai miei occhi quanto detto finora risulta efficace anche per due ragioni ben precise e che forse è il caso di evidenziare in primis il quadrante a finitura upaca molto assorbente con una fine lavorazione granulosa che facilita la lettura e in secondo luogo il vetro zaffero quasi piatto che facilita la visuale a dire il vero ho dovuto testare il trasparente perché nelle specifiche della casa non è riportato colgo così l'occasione per mostrarvi lo strumento adoperato per la verifica da prima lo testo per sicurezza su di un orologio del quale sono sicuro abbia il vetro zaffero e subito dopo faccio la prova su quello da testare insomma riassumendo un quadrante facile da interpretare e che allo stesso tempo lascia intravedere dettagli complicati in assenza di luce la sorpresa è rappresentata dalla tonalità arancione del super luminova molto particolare e da prima vista destabilizzante può essere alla lunga efficace e ben distinguibile sott'acqua in ogni caso tutti gli accenti sono bene evidenziati compresa la punta della sfera secondi naturalmente il ruolo fondamentale lo giocano i quattro triangoli che grazie anche alle dimensioni saranno sempre ben visibili per quanto riguarda il bracciale anche qui ci troviamo di fronte ad una nuova interpretazione di uno stile già visto le maglie a tre segmenti separati sono da sempre utilizzate ma qui si è riuscito a dargli una certa identità personale andando a realizzare quegli scalini longitudinali che attraversano il bracciale per tutta la sua lunghezza da notare che solitamente il segmento centrale è solidale a quelli esterni mentre qui è leggermente basculante soluzione atta a renderlo più confortevole al polso sono invece fisse le due maglie nei pressi della chiusura lo si nota da quel perno a vite passante che ha il compito di bloccarla probabilmente il fine ultimo è quello di evitare quel movimento nei pressi della chiusura quest'ultima il pregio oltre che la qualità costruttiva di essere personalizzata ci allontaniamo dalle solite clasp di fornitura in quanto quel foro ovale con il compito di contenere l'aletta con il logo è sicuramente realizzato su misura bel lavoro non è presente alcun sistema di regolazione fine automatico solamente i forellini laterali sulla scatoletta ultima annotazione funzionale è presente lo sgancio rapido del bracciale due levette a molla che una volta compresse fanno rilasciare il bracciale in un battibaleno utile possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali è sempre più difficile trovare dei punti deboli negli orologi moderni ma il mio compito è quello di sviscerarli nei dettagli più reconditi e vado quindi ad elencare alcuni minus che ho potuto constatare in primis la luminescenza ecco non è un orologio la cui luminescenza colpisce se non per il colore ma soprattutto perché ha bisogno di molta carica prima di diventare luminescente non è come un seiko o un longe in spirit che passando dalla luce al buio boom si illumina subito questo no questo ha bisogno di più tempo poi anche l'arancione non è che sia un colore che nello spettro visivo è tra quelli più visibili intendo sott'acqua e di solito si usa il blu o il verde che sono quelli che colpiscono maggiormente insomma la luminescenza non è ai massimi livelli poi un altro minus potrebbe essere quello della corona di carica ecco qua ero deciso se menzionarla durante il video infatti non l'ho menzionata lo menziono ora anche se è un po così quando vai a svitare la corona succede che solitamente c'è lo scattino che ti porta la corona in posizione di carica manuale ok qui non avveniva io svitavo e svitavo e svitavo e non c'era mai lo scattino quindi dovevo essere io a estrarla per leggermente per poi caricarla manualmente quindi ho detto ma lo menziono quando ho deciso di fare l'ultima prova prima di menzionare e ha funzionato cioè svitavo e faceva lo scattino e c'era la carica manuale quindi non so vi può succedere a volte come no non è niente di che è per l'amor del cielo però è un piccolo minus meccanico che c'è poi per il resto i punti positivi sono tantissimi orologio bello a vedersi originale con una propria identità tutto acciaio tutto opaco compatto al polso fa la sua bella figura è sottile 200 metri c'è poco da dire se piace piace devo poi fare una precisazione avrete visto non so se avete visto ma casomai vi rimetto le immagini che durante la recensione inquadrando il fondello c'era la dicitura incisa 404 su 500 ecco io lì mi sono sorpreso perché ho detto ma come è una limited edition sono andato a vedere sul sito non è una limited edition quindi mi sono premurato di chiedere informazioni a zodiac direttamente e mi hanno detto che quel numero lì sta di identificare il batch cioè loro producono a scaglioni di 500 orologi alla volta e quello sta di identificare che quello è 404esimo su 500 niente di che non è un'edizione limitata curioso però che numerino ogni singolo orologio perché è costoso cioè fai un fondello per ogni orologio va bene comunque contenti loro contenti tutti ragazzi io vi ho messo lì sul banco tutte le i pro e contro voi decidete se questo può essere un orologio che rientra nei vostri gusti nel vostro budget è nella vostra filosofia di collezionismo è boom mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e aver guardato il video spero vi sia piaciuto l'orologio spero vi sia piaciuto il video spero vi sia piaciuto il presentatore se così non fosse ce ne faremo una ragione vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao